Ciao a tutti. Una riflessione sulla lettera Fratelli Tutti di Papa Francesco, dove lui pone in atto in questa lettera, in un paragrafo, la cultura dell'incontro. E cosa ci dice? Ci suggerisce di gettare ponti di contatto, di progettare qualche cosa che coinvolga tutti, per far sì che questo diventi uno stile di vita e si vada oltre le dialettiche che mettono l'uno contro l'altro. Noi sappiamo che nella vita entra con prepotenza la dimensione delle relazioni. Ne relazioni e sul tipo di relazioni sappiamo che si gioca il bello della vita. Viviamo continuamente in relazione, da quando si nasce a quando si muore. L'uomo, come diceva Papa Benedetto, si realizza nelle relazioni interpersonali. Più le vive in modo autentico, più matura anche la propria identità personale. Noi, se ci guardiamo attorno, siamo proprio in questo tempo, siamo connessi con il mondo. Tutti sembrano avere tanti amici, tanti link, tanti contatti, tante relazioni, ma la realtà rivela una solitudine diffusa. E ancora Papa Francesco dice siamo sempre più soli in questo mondo massificato che privilegia gli interessi individuali e indebolisce la dimensione comunitaria dell'esistenza. Ci dice Papa Francesco ci siamo ingozzati di connessioni e abbiamo perso il gusto della fraternità. E qual è la conseguenza? Che domina la soggettività. Esiste il mio mondo, esiste il tuo mondo. Tutto è incentrato su di te, sulle tue esigenze, sui tuoi desideri, perdendo così il senso della vita, il senso del vivere e il senso della realtà. La domanda è come creare la cultura dell'incontro e la risposta è semplice, attraverso le relazioni. Però credo che dovremmo parlarci chiaro. Tutti noi vogliamo un mondo di pace, è un mondo di serenità, un mondo di felicità. Nessuno vuole la guerra. E se noi vediamo la maggioranza delle nostre relazioni è segnata dalla tensione, dal sospetto, dal conflitto, dalla rabbia, da divisioni, da muri. Ognuno vuole che siano gli altri ad adeguarsi al proprio modo di essere, di vivere e di pensare. Figuriamoci questo filmato. Due individui stanno discutendo tra loro circa un episodio che pur essendo accaduto in un lontano passato ha lasciato però dei malumori non ancora soppiti. L'uno dice all'altro, ma guarda che è successo questo e quello, sono io stato emarginato? Sono io quello che ha subito una situazione scorretta? Sono io che sono stato offeso? E l'altro replica, ma come? Io ho detto quelle cose ma non avevo intenzione di dire, forse ho detto quelle cose ma non volevo offendere nessuno, non volevo escludere nessuno. Pensiamo, entrambi sono risentiti e continuano a sostenere le loro argomentazioni. Chi ha ragione? Dov'è la verità? Chi ha ragione? Nessuno. Come ci sarà una verità? Nessuno. Perché? Tutti crediamo che la nostra memoria sia oggettiva, ma sappiamo che la mente seleziona. Ci fa vedere e ci ricorda solo alcuni aspetti, quelli selezionati. Non ci fa vedere tutta la realtà. Quindi ciascuno dei due contendenti ha trattenuto sensazioni diverse e contrarie tra loro. Allora viene da sorridere perché per imparare ad avere buone relazioni cosa si fa? Voi lo sapete tutti. Si fanno corsi, seminari, tante belle spiegazioni, tante belle parole, come avvengono le dinamiche relazionali, come accettare i limiti dell'altro, come curare la comunicazione, come portare il peso gli uni degli altri, come affrontare le dinamiche conflittuali eccetera, come dare il perdono. Tante belle parole e tanti bei concetti. Ma in pratica, se guardiamo in noi e se guardiamo attorno a noi, ci accorgiamo che il problema non è razionale, è emotivo. Noi possiamo avere le idee più belle, le idee più chiare, ma vivere in un costante stato di difesa, peggio, di guerra. Pur non volendo, tu vivi al centro del mondo, tutto deve ruotare attorno a te. Pretendi di avere sempre ragione, di essere il metro di comportamento e forse peggio ti presti al pettegolezzo, alla calunnia, a gelosia, a invidia e se provano a riprenderti o dire guarda forse che alzi le barriere, alzi i muri e giudichi tutto e tutti. Guardate che questo è il modello, è lo schema, è il clima che noi stiamo respirando. Ma va capovolto questo schema, dal primato dell'io al primato del tu sull'io. Ma questo è possibile solo iniziando come dice San Paolo nella lettera ai Romani al capitolo 12, dice non conformatevi a questo modello, non conformatevi alla mentalità di questo secolo, ma trasformatevi rinnovando la vostra mente, rinnovando i vostri pensieri. È chiaro che nella relazione tu devi essere disposto a perdere qualche cosa, tempo, pensieri, idee, perché Dio esiste ma non sei tu. Allora la domanda che viene è ma qual è l'elemento fondamentale per la relazione? Il dialogo. Ed il dialogo è fatto di due elementi, la parola e il silenzio. La parola e il silenzio per l'ascolto. Ecco nel Vangelo di Marco racconta che si accostò uno degli scribi a Gesù e gli domandò ma qual è il primo di tutti i comandamenti? E Gesù rispose, attenzione, il primo è Shema Israel, ascolta Israele. Il Signore è il nostro Dio. Amerai il Signore Dio con tutto il cuore, con tutta la tua mente, con tutte le tue forze, eccetera. La prima cosa che dice Gesù è Shema Israel, ascolta, 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 ascolta e l'ascolto è reso possibile soltanto dal silenzio. Oggi tutti parlano e nessuno ascolta. L'interlocutore parla, non riusciamo a farlo finire e subito abbiamo o la risposta o l'argomentazione per la disputa, concentrandoci ognuno sulla propria visione. Non siamo più capaci di stare in silenzio. Chiaro, silenzio non inteso come assenza di parole, di voci, ma silenzio come capacità di accoglienza, di stima, di amicizia. Nonostante tutto, capacità di relazione, di volto, di empatia. Dal silenzio nasce la parola. Dalle pause del silenzio nasce un dialogo fecondo. Dal silenzio ascolto il dialogo comunica e unisce. E nel dialogo sappiamo che sono fondamentali le pause di silenzio, come nella musica. Le pause danno valore a tutte le note che compongono una musica. Nello spartito musicale esistono simboli particolari per questa funzione. Mi sembra che siano sette i simboli. Una pausa è indispensabile per reggere tutto il discorso musicale. Nel silenzio ascolto. L'ascolto è una sfida, è fatica. L'ascolto però è andare anche oltre le parole. E percepire non solo le parole, ma anche i pensieri, lo stato d'animo, il significato più nascosto è difficile il silenzio, è difficile l'ascolto, è difficile il dialogo, è difficile la cultura dell'incontro. Ma la domanda è perché è difficile? Perché facciamo fatica a rinnovare la nostra mente, come dice San Paolo? Facciamo fatica a levare questi schemi che abbiamo, questa mentalità, che respiriamo senza accorgercene. E tu puoi dirmi, ma come? Io credo in Dio, opero per il suo regno, prego, faccio opere di carità, faccio il volontariato, ma allora che cosa mi manca? Guardate che molti credono in Dio. Molti credono alla sua parola. Ma l'importante è metterla in pratica. Metterla in pratica è un'altra cosa. E inoltre credo che manca un terzo tipo di conversione, di cui parla Padre Raniero Cantalamessa nella prima predica di Quaresima che ha fatto quest'anno. Quando nel libro dell'Apocalisse accenna alla lettera alla chiesa di Laodicea che dice io conosco le tue opere. Le opere quindi di bene. Si tratta di passare dalla conversione, dalla mediocrità, dalla tiepidezza al fervore dello spirito, alla passione dello spirito, alla passione per Gesù. Vuoi non accontentarti del poco? Vuoi uscire dalla mediocrità, dalla tiepidezza? Vuoi mettere la tua vita completamente nelle mani di Dio? Vuoi essere veramente facilitatore della cultura dell'incontro, della pace? Allora nel dialogo si è capace, come dice Papa Francesco, di dire parole di incoraggiamento, parole che confortano, parole che danno forza, che consolano, che stimolano e buttare via e bandire le parole che omigliano, che rattristano, che irritano, che disprezzano. Ti lascio una parola d'ordine da usare sempre, 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 una parola molto semplice. Dialogo, dialogo, dialogo ad oltranza, dialogo nella fatica, dialogo come silenzio, dialogo come ascolto, come coraggio, come speranza, dialogo come libertà. Buon cammino e Dio vi benedica. Buon cammino e Dio vi benedica.